Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo Daily Yea, la rubrica a caso dove a caso vi faccio vedere cose a caso della mia vita a caso. Questo Daily Yea è un po' diverso dagli altri perché al contrario di partire dal nulla e via comincerà con questa piccola introduzione perché questo Daily Yea sono stati due giorni che ho passato in Veneto insieme a Maurizio Merluzzo per girare un cortometraggio girato dalla Hive Division per promuovere Ash vs Evil Dead, la seconda stagione, la serie sulla casa, l'armata delle tenebre che va in onda su Infinity. Quindi quello che vedrete in questo Daily Yea è un po' il backstage visto dai miei occhi e qualche piccolo spot su il viaggio, le situazioni di pause e robe del genere. Ma se volete vedere il cortometraggio vero e proprio lo trovate nell'info box in alto a destra. Vi basta cliccare sulla I, il pallino così con la I dentro, per andare direttamente al cortometraggio che abbiamo girato. Detto questo vi lascio al Daily Yea! Buongiorno, oggi è domenica 28 agosto, ieri abbiamo girato tutto frullato e oggi si fa un viaggio bello lungo verso il Veneto insieme a Maurizio Merluzzo per delle altre riprese. Mauri, tra un'oretta e mezza arriviamo. E basta, fa caldo, non tanto, non ci fermiamo a dire qualcosa. Ok, io e Mauri siamo arrivati non sul set ma dove c'è la produzione con cui gireremo che è High Division ed è fichissimo questo posto. Tutto già è fichissimo. La location. Valentino! Questo è il set dove gireremo il corto. Io mi sto mangiando una banana perché il potassio fa bene. Mauri sembri un cofadro espressionista. È bellissimo. Questa roccia è soffusa. Ok, sono le 10.40 di sera, abbiamo girato tutta la scena con le motoseghe, adesso andiamo avanti almeno per un paio d'ore. E poi in anima. Andiamo a mettere un po' di un po' di un po'. E azione. Sì, però, uff, io ho appena spottato dei cervi e siccome c'è il blocco bambino non sono potuto scendere, Virgil. È una tragedia. Mi hai fatto le foto, ma... Per oggi abbiamo finito, domani mattina riprendiamo e... Non è bastato. Io e Mauri andiamo a dormire. Notte a tutti. A dopo. Secondo giorno di ripresa. Mauri si sta preparando. Abbiamo dormito tipo sei ore? Cazzo. Cazzo abbiamo dormito e tra un po' giriamo. Mauri me lo fai, ti prego, dai. Ehi, 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 Spongebob prepara i crummy party. Vada via! Ok, mentre Mauri beve il caffè più schifoso del mondo... C'è Virgil che sta facendo un lavoro di produzione molto importante. Cosa stai facendo, Virgil? Devo disegnare... Gente, quello che è aperto è necronomico. Noi, Virgil lo deve riempire di adesivini carini. Di vampirette! Virgil, dub. Brava. Bravissimo. Quindi non posso neanche togliere... Quindi, Virgil? Non è ancora finita, non è certo. Ah, ok. Allora aspettiamo. Mi sta dicendo. Stai facendo un dietro su? Un dietro su. Un dietro su. Facciamo il dietro su. Ragazzi, chiaro, ufficialmente finite le riprese. Buonissimi tutti. Grazie. Ok, fine riprese. Siamo pronti a partire? Sì! Signor capitano. Non ho sentito bene. Sì, signor capitano. Ok siamo arrivati Sani e Salvi a Milano E stiamo per andare a mangiare al ristorante Per Arcelia Non so che accento ho fatto non chiedetemi Ok sono appena tornato a casa E questi sono i motivi per cui io amo Chiara Abbiamo messo a posto casa E' bellissimo Prima di partire per il Brasile Adesso io mi schiaffo su sto letto Svengo per tipo 12 ore E basta Ci vediamo Ciao